Ma Marco, secondo te perché c'è stata questa sollevazione di scudi così tanto? Perché ha fatto così tanto rumore questa vignetta? Tu hai elencato, perché confluiscono varie tematiche, però che un Presidente del Consiglio faccia un post e che molta parte dell'opinione pubblica, che si è sempre battuta per la libertà di satira, questa volta no... No, però non si è mai battuta, perdonami. Io, essendo vittima spesso di queste cose, tutti questi personaggi che Marco ha elencato, io non me li ricordo mai, che sono poi intervenuti a difesa di una vignetta. Ma che in un telegiornale non facciano vedere la vignetta è singolare. Ma che in quel telegiornale, cioè quello della Sette, non abbiano fatto vedere la vignetta e Mentana abbia detto che non era il caso di parlarne, allora la domanda è perché ne parli? Se ne parli perché non la fai vedere? Perché la ritieni brutta? Bene, dillo che la ritieni brutta, fai vedere, così i telespettatori si fanno l'idea. Ci sarà chi la ritiene brutta, chi la ritiene bella. Cioè qui l'unico dibattito che non è in discussione è che qualcuno possa dire la vignetta mi è piaciuta, la vignetta non mi è piaciuta. Questo è totalmente legittimo. Il fatto è che la gran parte delle persone, dato che non gli è piaciuto, dice che non è satira. Perché? Perché ha fatto incazzare le vittime. Ma se si sono incazzate le vittime, vuol dire che è satira, perché non è satira quella che fa piacere alle vittime, quella dove la vittima chiede l'originale e ringrazia per l'attenzione il vignettista. E quella vuol dire che è un po' compiacente. Feltri, che è più grande di noi, ha fatto incazzare un sacco di gente e credo che quando si incazza la gente vuol dire che la sua penna puntuta ha colpito nel modo giusto. Quando non si incazza nessuno vuol dire che sei un cane da compagnia, non sei un cane da guardia.